I carabinieri del comando provinciale di Padova, al termine di una complessa indagine, hanno arrestato due spietate ladre di etnia Sinti. Le due donne, senza scrupoli, spacciandosi per funzionari pubblici, carpivano la fiducia di ignari anziani, sottraendo gli oggetti, frutto di sacrifici. Decine i casi addebitati alle due Sinti. Le donne si presentavano a casa delle vittime, spacciandosi per funzionari e IMSS, fingendo di preoccuparsi per la loro salute e inventando che dovevano ottenere un aumento della pensione. Ricevevano quindi la fiducia dell'interlocutore. Solitamente poi una del duo continuava a chiacchierare, mentre l'altra si aggirava indisturbata per casa e facendo manbassa di denaro e oggetti. Dopo le indagini è scattato l'arresto. Le due vivevano in una casetta mobile in provincia di Vicenza. Grazie a tutti.